The Sixth Sense, Il Sesto Senso, è un film del 1999 scritto e diretto da M. Night Shyamalan. Protagonista di questa vicenda è Bruce Willis, che interpreta Malcolm, uno psicologo infantile che, all'incirca un annetto dopo un terribile evento che lo ha segnato profondamente, sta per intraprendere un percorso assieme al piccolo Cole, interpretato da Haley Joel Osment. Cole, infatti, da qualche tempo comincia ad essere un ragazzino di all'incirca 9-10 anni con evidenti tutta una serie di problemi. È particolarmente introverso, addirittura sembra provocare delle strane circostanze, mettiamola così, è, diciamocelo, abbastanza inquietante, dice delle cose un po' strane e purtroppo, a mano a mano che la storia andrà avanti, scopriremo che il piccolo Cole addirittura occasionalmente si ritrova con qualche brutto segno. Il ragazzino vive assieme alla mamma, Lynn, interpretata da Tony Collette, che non sa più che pesci pigliare. Malcolm, in quanto psicologo infantile, particolarmente esperto, anche purtroppo, diciamo, c'è la chiara e tondo di ragazzi complicati, con tutta una serie di problemi, a poco a poco cercherà di, in qualche modo, interagire con il ragazzino, cercando di scoprire che cosa lo turba così profondamente. Questo film, di fatto, sarà, soprattutto nella prima parte, basato su questo, ovvero sia il relazionarsi di Malcolm con il piccolo Cole, che, a poco a poco, avremo modo di comprendere il perché, si comporta come si comporta, e, soprattutto, ci renderemo conto di che cosa sta vivendo, dello straordinario e terribile dono, se così lo vogliamo considerare, che porta il ragazzino, di fatto, a vedere le persone che sono mancate. Scopriamo presto, infatti. In realtà, da prima, con tutta una serie di segni, possiamo immaginarcelo, di fatto, guardando le varie immagini di questo film, e poi, in realtà, quando sarà il ragazzino a spiegarcelo, esplicitamente, lo spiegherà allo stesso Malcolm, scopriremo che Cole è in grado di vedere le persone che sono morte, che gli dicono delle cose, e questo, di fatto, lo sconvolge profondamente. È un film questo che io ho avuto modo di vedere diverse volte nel corso degli anni e che, per certi versi, ha segnato, forse, un pochettino, una tappa importante del cinema, perlomeno di quello con cui posso aver avuto a che fare, quando ero piccolo io, per l'appunto. Nel 99 io avevo all'incirca 11 anni e ricordo che questo film, che in realtà è uno dei primi, comunque, di questo regista, fu veramente un po' uno shock, per certi versi. In parte lo shock è legato a quello che forse è l'elemento più famoso di questo film, per chi, appunto, ne sa qualcosa. Ma, d'altro canto, in realtà, questo film che so essere stato così apprezzato da pubblico e critica e che è stato anche candidato, soprattutto a diversi Oscar o quant'altro, ma in generale è stato molto apprezzato, questo film riesce a essere veramente un qualcosa di affascinante, a mio avviso, che più passa il tempo e più, effettivamente, mi sento di apprezzare. Non ho mai amato così tanto questo film, così come in questa mia ultima visione. Ho avuto modo, con questo terzo film, se non erro, di Shyamalan, di vedere veramente un balzo in avanti molto importante, un balzo in avanti molto importante per questo regista che qui mette insieme tutta una serie di elementi che sono, per certi versi, quasi dissonanti con le produzioni più semplici, se vogliamo, dei suoi, appunto, film precedenti. Sto pensando, di fatto, a Prime with Anger e... ad occhi aperti. D'altro canto, questo film riesce a essere affascinante ed inquietante per gli elementi, appunto, inquietanti che lo caratterizzano, ma perché no, anche profondamente emozionante. In determinati frangenti, davvero, sono rimasto profondamente colpito dalle emozioni che mi sono, appunto, arrivate dai personaggi, soprattutto quando ci sono alcuni confronti fra di loro. Addirittura, ad un certo punto, mi sono persino commosso. È un film, questo, che in generale, comunque, può essere ascrivibile al genere horror, principalmente. Una sorta di thriller horror e so che, se consideriamo questo film come un horror, infatti, per tantissimo tempo è stato, forse, l'horror che ha goduto dell'incasso maggiore nella storia. Questo la dice lunga, per certi versi, sulla portata popolare che ha avuto, per l'appunto. D'altro canto, capisco bene il perché è riuscito a fare così tanto breccia ed essere così tanto apprezzato. Per certi versi, il primo elemento che mi viene a citare come un qualcosa di estremamente suggestivo è il ritmo della narrazione. Questo film, veramente, nei suoi 108 minuti o qualcosa del genere, vola via che è una bellezza. Ogni scena mi sembra, veramente, della durata perfetta per quello che, appunto, deve fare il personaggio di turno o la circostanza di turno ai vari personaggi. È un qualcosa, questo, che in alcuni film odierni forse si è un pochettino perso. il dosare nella maniera giusta per l'appunto quanto ci viene mostrato. E devo essere sincero, davvero, è stato un gran bel ritmo quello che mi è stato opposto. Accompagnato, così come da una fotografia suggestiva con una peculiarità, fra l'altro, legata al colore rosso, accompagnato da una corna sonora di James Newton Howard, estremamente efficace per suggestionare in maniera, per certi versi, abbastanza semplice ma comunque efficace. Ci sono alcuni frangenti in cui veramente sono rimasto profondamente inquietato da quelle musiche in sottofondo che solo occasionalmente hanno avuto dei picchi, se vogliamo, atti a scuotere, così come eventuali momenti un pochettino più esasperati dal punto di vista visivo e narrativo e veramente l'aspetto acustico di questo stesso senso è un qualcosa che ho molto apprezzato. Sinceramente però su tutto quello che veramente mi ha colpito in positivo come non mai malgrado ne avessi già veramente un ricordo positivo è stata la performance attoriale dei due attori protagonisti. Il piccolo Cole Ale e Joel Osment veramente è riuscito a regalarmi dei momenti in cui davvero ho percepito tutto il terrore che il personaggio prova nella circostanza in cui si trova. Una circostanza agghiacciante ed è affascinante vedere l'espressività tra appunto questo ragazzino allora ragazzino che davvero riesce a trasmettere tantissimo al qui presente spettatore e non solo a me ovviamente considerato come è andata. E' affascinante poi vedere un aspetto che a volte nelle produzioni un pochettino straordinarie fantastiche non viene molto esplorato. Sto parlando della difficoltà per l'appunto in un clima familiare diciamo genitoriale magari di avere a che fare con un qualcuno che è immerso in qualcosa di straordinario. Questo genitore nella fattispecie Lynn il personaggio di Tony Collette faticherà a provare in qualche misura a barcamenarsi con questo figlio così problematico ai suoi occhi alla fine riuscirà grazie finalmente quella forza che Colle è riuscito a trovare a comprendere che cosa veramente è successo e accade e accadrà probabilmente in futuro al figlio. un qualcosa di affascinante e davvero in determinati frangenti quei momenti con la madre quel confronto alla fine in quella macchina davvero mi ha colpito molto. D'altro canto c'è l'altro attore che è metà secondo me di questo film che interpreta il personaggio dello psicologo Malcolm che è Bruce Willis. Willis veramente mi ha colpito in maniera positiva positiva come non mai questo attore è riuscito con alcuni sguardi con alcune lentezze veramente a regalare tantissimo a mio avviso ed il suo personaggio sembra davvero un personaggio se vogliamo per certi versi meno distrutto in maniera acuta da quello che gli accade da quello che sta vivendo e da quello che realizza a poco a poco che la storia va avanti e lo consideriamo rispetto al personaggio di Cole ma d'altro canto un personaggio evidentemente ben più maturo del ragazzino sta vivendo dei drammi molto importanti nella fattispecie questa moglie con la quale non ha più un rapporto di fatto questo dramma che di fatto li ha divisi e che è al centro ovviamente di quello che è il colpo di scena di questo film ammetto che in realtà in questo momento non riesco a ricordare all'epoca della mia prima visione di questo film se già sapevo del colpo di scena per l'appunto della rivelazione in merito al personaggio di Bruce Willis oppure no e so che per certi versi questo colpo di scena così importante è diventato veramente un cult un meme anche perché è un qualcosa di estremamente importante quello che ci viene proposto per l'appunto quando c'è l'ultima sequenza l'ultimo momento il personaggio di Malcolm e sua moglie ed è un qualcosa che riesce a essere straziante e al tempo stesso che no forse molto tenero e romantico di fatti il lato emotivo di questo film nuovamente viene fuori ed è un qualcosa che davvero mi ha suggestionato in maniera molto importante in generale questo film davvero non l'ho mai apprezzato così tanto così come in questa mia ultima visione e credo che sia veramente un gran bel film un gran bel film che merita di essere scoperto o perché no eventualmente riscoperto eventualmente fra l'altro anche qualora quel colpo di scena così importante e che spero sia tale per gli spettatori anche in quel caso che magari riconosce già il colpo di scena prima di vedere questa visione comunque la visione per quanto privata di questo elemento secondo me rimane comunque validissima per i motivi che ho detto per gli aspetti più tecnici se vogliamo perché no quelli più storiali interpretativi emotivi che riescono davvero per mettere a questo film The Sixth Sense di Sesto Senso riescono davvero a rendere questa pellicola di M. Night Shyamalan un qualcosa che vale davvero a mio avviso la pena vedere e quindi se vi capita guardatevelo di Sesto Senso